La Sondro Abate si prepara a mettere a segno un nuovo colpo. La squadra vellinese mette la freccia per Douglas Nicolodi, il calcettista brasiliano naturalizzato italiano entrato nel merino del Sodalizio Erpino. Exacco e Savone, Reale Rieti piace molto al direttore sportivo Andrea Candeloro. Il dirigente bianco-nero-verde è andato all'assalto del classe 1988, che piace anche al signor prestito e ha ripescato Napoli. Pescara, Bisceglie e Cisternino, le altre squadre con cui ha giocato, oltre a vantare diverse presenze con la nazionale azzurra dal 2010 al 2013, in carriera ha vinto la Coppa Italia Under 21 con Bisceglie, ma anche un campionato italiano con Pescara e una Coppa Italia con gli Abruzzesi, senza dimenticare il campionato di A2 vinto con Cisternino. Secondo indiscrezioni, Candeloro è al lavoro per concludere questa parazione da diversi giorni e ci sarebbero da limare alcuni dettagli sull'accordo economico. Il DS Pescarese sta lavorando a ritmi serrati per trovare l'intesa prima possibile. Nel frattempo proseguono gli stagi per il settore giovanile.